Bentornati a Radio Design, qualcuno mi ha costretto a mettere una pecetta in testa, poi lei se l'è tolta, benissimo, quindi la tolgo anch'io, la faccio vedere bene in camera E esprime il disappunto E il disappunto di non avere i capelli, nel mio specifico, perché l'ho messo sulla testa, ben illuminata, poi grazie Lorenzo magari setteremo le luci per avere un quadro migliore della situazione E' caduto il sorriso triste, allora oggi torniamo con, dopo una lunga assenza, con l'Elisabetta Enrietti, grande speaker di Radio Design Con questo programma, come si chiama il programma? Brand Pete Che parla di cosa? Di brand iconici, un po' dei loro luoghi e dei modi in cui hanno agito nel mercato, piuttosto che di curiosità, insomma una cosa bella cicciotta, c'è tanto da prendere Una tipologia di questo genere Allora, oggi torniamo parlando di un grandissimo brand, di quale brand parliamo? Di Netflix, oggi parliamo Sto da leggere il brand No, no, lo so perfettamente ragazzi, parliamo di Netflix Parliamo di Netflix, qualcuno sperava di capigliature, ma no, parliamo di Netflix Non tu Non io nello specifico Esatto Parliamo di Netflix, allora facciamo una piccola introduzione perché ci stiamo perdendo troppo in chiacchiere Elisabetta Parliamo di Netflix, sapete tutti cos'è, probabilmente quasi tutti voi siete iscritti a Netflix oppure l'avete hackerato in qualche modo trovando Rubando password quella di amici, conoscenti, familiari Nell'insieme Netflix possiamo dire che è il primo servizio di streaming online di contenuti video, giusto? Non avrei saputo spiegarlo meglio Non avrei saputo spiegarlo meglio, ha un grandissimo competitor che è Prime Video Esatto Poi ce ne sono altri minori come Hulu, tu sei giovanissimo, non te lo ricordi Nel 2010 Hulu 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 era un grandissimo player online e poi è stato praticamente annientato da Netflix esatto cosa possiamo dire velocemente Netflix è stato creato da un grandissimo ingegnere nel 97 quindi tanti pensano che Netflix sia abbastanza recente in realtà una storia lunghissima nasce nel 97 io ero nata da poco tu eri appena nata e subito dopo nel lettino accanto c'era un altro bambino si chiamava Netflix prova a immaginarlo con la testa rossa e sopra c'è scritto bello demoniaco io ero già anziano e quindi tu avevi sui 45 46 anni sbagliato di un anno Netflix nasce come con un modello di business totalmente diverso da quello attuale tanti non lo sanno ma come nasce Netflix come Netflix nasce come servizio di postale per la fruizione di video di film come funzionava praticamente tu pagavi ti spedivano a casa come nel medioevo le cose tu ti guardavi il film lo reimpacchettavi lo spedivano spedivi indietro e l'avessero fatto con poste italiane avessero fatto in campania sarebbero falliti subito perché spedisci la roba da noi non torna più indietro benissimo gli americani sono persone serie quindi spedivano indietro la roba a un certo punto questo ingegnere dice sì vabbè ma così non ci siamo a questo punto facciamo così facciamo una fee mensile e tu hai la possibilità di prendere tre libri tre film a scelta è tipo una biblioteca biblioteca multimediana da questo modello già con questo modello Netflix comincia a fare i big money comincia anche a spedire poi i DVD ovviamente perché prima c'erano i VHS tu non sai neanche di cosa stiamo parlando ma certamente c'ero anch'io in quel video c'ero già c'eri già con i VHS poi arrivano i DVD quindi cominciano a spedire i DVD hanno già Netflix c'è già un discreto successo c'è già una trentina di milioni di persone iscritte a questo servizio quando poi a un certo punto Netflix arriva a un miliardo di DVD spediti ma in che formato li inviavano i i film eccetera prima dell'avvento del DVD cioè loro nascono come servizio postale ti invia il film a casa ma come? con la posta un pacco dentro il pacco c'è? VHS una cassetta esatto esatto a questo punto diciamo siamo ancora i primordi di Netflix quando finalmente si raggiungono un miliardo di DVD inviati Netflix aggiunge a questo servizio di base lo streaming online ma a questo punto io mi fermo perché vorrei da te una piccola analisi del primo logo bellissimo di Netflix è una merda incredibile abbiamo attenzione uno scoop ne abbiamo tanti ma non so a quale tu ti riferisca uno scoop nascosto là dietro certo però prima bisogna fare una premessa bisogna andare alla radice i famosi passi indietro di Elisabetta perché quando tu fai un figlio scegli il nome quando tu crei un brand fai altrettanto esatto e appunto cioè come quando scegli il nome di un figlio passi da nonna madre e azia pure in questo caso hanno passato mille nomi prima di arrivare a quello giusto quello perfetto prima si chiamava Luna poi Replay poi Kibble che pare fosse pare essere il nome del cane del CEO di Netflix credo sia morto sono passati vent'anni mi auguro di no però a me temo di sì e poi sono arrivati appunto a Netflix Netflix che è internet quindi net quindi rete se non sbaglio più Flix che è un altro modo di chiamare i film quindi a questo punto film in rete esatto esatto quindi sono arrivati a chiamarlo appunto Netflix detto questo una volta deciso il nome dovevano farci il logo e l'hanno fatto meglio se non lo facevano ai tempi perché faceva un po' Kibble allora attenzione lo scoop in video la valletta faccia vedere per favore la valletta più brutta della storia vi farà vedere l'evoluzione del logo così in modo molto artigianale crafty come è Radio Design cercherò di con una mano mentre tu racconti io lo faccio vedere con due mani ok allora il primo logo quindi quello del 1997 che è stato adottato dal 1997 al 2000 è quella roba schicosa lì che praticamente segna appunto anche la distinzione tra net e flix che appunto erano due parole distinte ed è appunto questa schifezza che ha questa pellicola cinematografica che va a dividere appunto le due parole in sostanza ecco questo non è che avesse un grande una grande ricerca grafico artistica mettiamola così bene cos'altro possiamo aggiungere di questo logo tristissimo i colori messi a caso sì nemmeno il motivo del viola in realtà è esplicitato quindi non si sa potrei dare una mia interpretazione ma sarebbe sicuramente errata per cui lo lasciamo così com'è evitiamo perché poi se ci ascolta Pampanelli si arrabbia ecco gentilmente alla grandissima e poi a che punto quando succede quando c'è il passaggio al nuovo logo il passaggio al nuovo logo c'è nel 2000 nel 2000 cambia fortunatamente finalmente ed è appunto il si presenta nella forma più più iconica del logo appunto se qualcuno pensa a Netflix in genere appunto dovrebbe pensare a quel logo lì il logo che è stato adottato dal 2000 al 2014 che è questa scritta bianca su sfondo rosso il font è grafic grafic ed è appunto ed è appunto questo font che grazie al quale la scritta sembra quasi uscire un po' dal faccio vedere meglio dallo schermo o quel che è insomma questa svetta verso il fuori molto accattivante molto accattivante molto accattivante a questo punto tornerei sulla storia ci fermiamo un attimo facciamo un altro passo indietro cosa succede dicevamo finalmente Netflix affianca a questo modello di business tradizionale cioè quello di invitare inviare ce la posso fare inviare DVD VHS poi siamo arrivati i DVD e i contenuti affianca finalmente il lato streaming ovviamente l'evoluzione di Netflix segue un pochino anche l'evoluzione e il progresso tecnologico legato alla banda perché se negli Stati Uniti già mi ricordo io quando avevo Napster nel 96 avevano la fibra da noi la fibra è arrivata ieri praticamente esatto non vorrei neanche ricordarvi la DSL è una cosa abbastanza triste prima c'era il 56k il modemino che facevano un momento nostalgico un momento nostalgico cosa che io non posso capire no ti racconto solo che per scaricare una canzone ci voleva una notte intera facevi prima cantarla sì ma una voce di merda quindi anche questo non si poteva fare quindi tornando alla questione di Netflix finalmente Netflix affianca il lato streaming quando finalmente la banda diventa stabile tutti hanno la DSL aggiungo una cosa molto nerd al discorso Netflix ha un addirittura ha un brevetto sul buffering sapete tutti cos'è il buffering forse lo spiego è meglio il buffering è quella rotellina che gira che ti fa incazzare quella roba lì esatto il buffering è quella tecnologia che permette diciamo a un contenuto online video sostanzialmente di scaricare dei pacchetti di contenuto in modo anticipatamente in modo che se magari alla rete viene meno tu sei in avanti con il contenuto adesso lo spiego molto meglio perché sono stato abbastanza triste in questa spiegazione cosa vuol dire che praticamente il sistema che gestisce i video scarica dei contenuti e quindi ti permette di non perderti parte del video se a un certo punto la tua rete viene meno quindi tu diciamo hai già dei contenuti che sono 30-40 secondi un minuto avanti ah ok quindi magari la linea se ne va prima ma tu hai comunque la possibilità di vedere quei 20-30 esatto esatto quella è una tecnologia che nel caso di Netflix è avanzatissima è la migliore al mondo ho letto questo bellissimo articolo che comparava la tecnologia di buffering di Netflix comparata a quella degli altri quindi delle tecnologie Sky perché c'è anche Now TV se qualcuno ci ha mai bazzicato oltre a Prime e se ci fate caso la qualità video di Netflix surclass a tutti gli altri player e questa è stata anche una grande forza tecnologica che gli ha permesso di diventare il primo player mondiale veniamo poi al 2014 cosa succede Elisabetta? allora nel 2014 c'è un'altra evoluzione del logo Valletta Palumbo esatto quella lì in cui appunto il logo è rosso ed è su sfondo bianco o trasparente quindi appunto come impostazione diciamo che non cambia molto ma ci sono dei grandi cambiamenti in realtà a livello appunto grafico che i più nerd della grafica possono notare gli altri un po' meno e anche io li sono dovuti andare a leggere comunque in ogni caso e allora che succede? che succede? il font graphique non è più adottato perché Netflix si è creato il suo font si è creato il suo font quindi i designer interni a Netflix con la fonderia Dalton Mag hanno creato questo font che si chiama appunto il Netflix Sans e compare appunto in versione regular bold thin black insomma in tutte le versioni possibili infatti quando noi vediamo l'anteprima di una serie tv Netflix Netflix che c'è tipo il titolo tipo DOA o robe del genere sono tutti scritti con il font appunto di Netflix questa scelta del font l'ha fatta sì per rendere comunque anche l'identità del brand ancora più forte e anche per appunto spendere meno soldi con le licenze dei font che altrimenti avrebbe dovuto appunto pagare regolarmente dei pellari insomma ma anche Netflix vuole risparmiare esatto beh c'ha ragione il font Netflix tra l'altro deriva appunto dal dal Gotham bellissimo font bastoni che è molto amato da me e da tanti altri grafici e poi si è fatto il font e si è fatto anche il colore perché esiste il rosso Ferrari ed esiste anche il rosso Netflix che appunto dicessi rosso ferragna a un certo punto no che appunto andando sempre nei tecnicismi ha come codice CMYK 096 93 2 quindi ha molto giallo molto rosso un pochino ino ino di nero e per niente blu blu non gli piace blu nenn non c'è intanto Luca Gatti dice che spettacolo che speakers che speakers grazie Luca Gatti grazie Luca Gatti e ebbene ebbene quindi quindi questo poi un'altra cosa molto importante abbiamo addirittura stampato una pagina anche per questo che è un discorso di 10 secondi ma abbiamo la pagina anche per questo è questa cosa qua perché Netflix ha fatto anche la versione contratta del suo logo che è semplicemente quella n che sembra un po' un nastro che dicono ricordare appunto il tappeto rosso e appunto ha fatto questa forma contratta perché appunto si presenta meglio all'interno delle app o nei posti in cui appunto non si può mettere la forma estesa del logo logo che tra l'altro va bene logo che tra l'altro se non gli dice niente continua a stare hai ben ragione ti chiedo scusa logo che tra l'altro dicevo è interessante perché è stato progettato proprio per bene questa volta mentre gli altri avevano fatti un po' ad cazzum questo è fatto proprio per bene tant'è che ci sono diverse regole di cui andremo a parlare dopo ma una cosa interessante è che è anche stato progettato sia per essere visto sui grandi schermi gli schermi giganteschi incredibili sia su quelli minuscoli quindi funziona in tutti i casi funziona da grasso funziona da magro sogno di una donna invece no solo il logo netflix ragazzi mi dispiace faranno un vestito netflix che vuol dire che sei figa sempre esatto lo compro anche io benissimo non funzionerà comunque magari un cappello netflix mi compro così elimino il problema bene vado avanti cosa possiamo aggiungere qualcosa che riguarda invece il marketing sapete tutti che netflix ha una grandissima investe tantissimi soldi sul marketing ho scoperto con mia grandissima sorpresa che quest'anno netflix spenderà due miliardi di dollari in campagne pubblicitarie per quello che riguarda il marketing sostanzialmente sarà il 90 100% online la bellissima sorpresa è che surclassa colossi giganteschi del nasdaq americano che sono la nasdaq è la borsa americana per i titoli tecnologici certamente hai fatto una faccia strana ho detto spiego cos'è il nasdaq esatto parola di uso comune nasdaq 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 come la apple che spenderà invece un miliardo quindi c'è un miliardo in più di apple attenzione altri player come facebook anche facebook prevede di spendere un miliardo di dollari in campagne pubblicitarie che poi spende su se stessa quindi si autoalimenta da sola praticamente questa cosa è abbastanza divertente no non è propriamente così perché magari diversifica investe pure su google eccetera eccetera per questo è un altro discorso la cosa bellissima è che netflix ha un tono di voce stupendo online non so se hai mai notato come vengono lanciati i contenuti multimedia lanciati sulla rete ovviamente si gioca molto sui video sui trailer si gioca tantissimo ovviamente anche a seconda dei paesi perché viene gestita una comunicazione centralizzata di netflix negli stati uniti poi non l'abbiamo detto ma netflix è presente in 190 paesi in italia è sbarcato credo nel 2014 adesso non vorrei sbagliarmi proprio con l'avvento del nuovo logo è entrato con stile è entrato con stile è arrivato con il nuovo vestito e ha detto uè uè là uè là anche in italia diciamo che è il primo player nonostante la presenza di sky che comunque è un grandissimo player nel settore dello streaming e ha tantissimi abbonati però si sono fatti fregare immediatamente nello specifico in italia la comunicazione online viene gestita da we are social che se non sbaglio è stata anche l'agenzia di comunicazione che quest'anno ha vinto la festa della rete per miglior agenzia italiana quindi li saluto ciao mitici veniteci a trovare la strategia di comunicazione di netflix come dicevo è molto incentrata sulla co-creazione di contenuti e l'invito alla condivisione questa cosa è sempre presente come elemento comune nei contenuti che vengono veicolati su facebook ma anche su instagram un pochino su tutti i social network e cosa possiamo dire ancora che una cosa interessantissima riguarda il vpn sai cos'è il vpn no è un'altra cosa da ultra nerd praticamente il vpn ti permette di raggirare i siti che in alcuni casi sono bloccati in determinati paesi quindi quando netflix non era in italia con il vpn quindi con dei diciamo un ip diverso riuscivi a vedere comunque netflix certo era quello che io facevo proprio è una cosa molto nerd ma in questo articolo che parla proprio della strategia di marketing di netflix viene raccontato come nonostante ci siano oltre 30 milioni di utenti che hackerano sostanzialmente la visione dei contenuti netflix netflix è riuscita a crescere tantissimo è arrivata a 120 milioni di iscritti in tutto il mondo di cui solo 40 cioè di cui 40 sono stati diciamo sono arrivati nell'ultimo anno ed è tantissimo perché netflix c'è da 97 40 milioni 40 milioni di nuovi iscritti da gennaio 2018 40 è un po' un flop 40 persone esatto 40 nuovi iscritti che abbiamo qui eccoli benvenuti fate scorrete e qui diciamo è più o meno questo sarebbe da parlare per ore e ore cosa vuoi aggiungere per chiudere alla nostra bellissima puntata su netflix beh sarà parecchio lunga allora perché ancora vai vai lancia no non tantissime ragazzi allora giusto un altro paio di curiosità perché chi fa spesso loghi immagini coordinate lo sa chi non li fa non lo sa ma glielo spiego io grazie esatto cosa succede quando si fa un logo tu fai il logo bello bellino però poi devi pensare eh sì ma quando un ignorante nel mondo della grafica chiariamoci va a usare questo logo che non me lo sbagli perché a volte appunto te lo strecciano te lo allargano e con il logo di netflix che ha una certa importanza comunque bisogna andarci con i guanti quindi hanno fatto tutto questo manuale di immagine coordinata dove dicono le regole dell'utilizzo del logo sono parecchie e molte sono anche divertenti alcuni invece sono anche un po' rompi coglioni non ho trovato un'alternativa è sotto un gergo per tecnico grazie esatto allora beh dicono non usare il logo in bianco su sfondo nero in bianco su sfondo rosso non utilizzarlo all'interno di un box quindi un netflix supreme non si può fare un logo di netflix non si può fare non si può mettere nel box poi chiaramente non si può strecciare non si può mettere in obliquo insomma bisogna trattarlo come una signora lì tranquilla con grande rispetto tucaneng tucaneng benissimo non si può nemmeno mettere su sfondi caotici cioè se tu vuoi presentare una serie tv di netflix e ci vuoi mettere il logo bello belino ciò devi mettere su uno sfondo dove non c'è un sacco non ci sono un sacco di persone che festeggiano e se la ballano perché è sbagliato deve essere uno sfondo neutro e soft ma poi una cosa curiosa e divertente è che hanno anche detto dove lo devi ficare sto logo e dove bisogna inserirlo vai dove non bisogna inserirlo dove non si mette allora non bisogna metterlo sugli zerbini hanno scritto grazie perché lo vai a calpestare e lo sporchi non bisogna metterlo sul pannello per le freccette perché non si deve rovinare e siccome loro lo amano molto non deve andarsi a rovinare non si può mettere sui prodotti usa e getta perché sia mai che si vede il logo di netflix che si getta spazzatura e un'altra cosa divertente non si può mettere sul cibo perché il logo di netflix non va né tagliato né digerito e il proseguo direi non dirlo e lei che farci la cacca bene con netflix la cacca rossa esatto e saluto la mari in questo caso ciao mari amante vabbè comunque e insomma queste cose divertenti che hanno fatto questo manuale molto approfondito tanto appunto da inserire anche queste queste cose un po' così un po' curioso un po' strano prossimo logo che faccio ce lo metto allora ti faccio una domanda tu usi i calzini mentre guardi le serie tv dipende se è inverno se è l'estate se sono dipende che ne so sotto natale userai il calzino natalizio quello rosso con le renne e beh questa domanda non è casuale come tutta la nostra esistenza ma in realtà nel mio caso specifico sì ma questa domanda nasce dal fatto che vorrei introdurre una novità fantastica geniale che ha vinto anche un premio fighissimo che è stato un'invenzione di netflix netflix ha creato un calzino targato proprio netflix bellissimo che sicuramente avrà usato seguito quelle indicazioni certamente è un po' strano perché il logo di netflix sul piede non so c'è un po' strano anche lì io ho un piede a forma di netflix tutto un po' strano ti auguro di no cosa fa questo calzino ha una tecnologia a monte che permette di capire qual è il nostro bioritmo se noi ci stiamo addormentando cosa fa lancia un segnale si interfaccia con netflix con la smart tv sostanzialmente lancia un segnale e dice a netflix ferma la visione della serie tv perché l'ominide si è addormentato lo facesse mia mamma penso si siede si spegne tutto subito penso si che ci sono tantissime donne che appena si siedono e quindi la calza dice al televisore ferma tutto perché poi si risveglia c'è il famoso il famoso messaggio che dice vuoi continuare perché sono tre puntate che non dici non dai segnali di vita questo può essere utile che spesso e volentieri guardi un film che i protagonisti sono innamorati ti svegli e uno è morto e tu hai dormito un minuto non capisci dici ma come quando è successo e poi ho anche un classicone tra l'altro di netflix non abbiamo detto due cose belle che mi manca da dire che nexf6 investe ogni anno investiva l'anno scorso sei miliardi di dollari per la produzione di contenuti quindi e questo è il vero successo di netflix quest'anno salirà a otto miliardi una sciocchezza ragazzi quindi otto miliardi per il content due miliardi per il marketing stiamo parlando di un mega colosso che fa veramente paura poi tornando al calzino ci leghiamo a un concetto a un termine che è nato proprio grazie a nexf6 come si dice elisabetta quando stai guardando una serie tv e non riesci a stare fermo e vuoi vedere tutte e dodici le puntate in seguito bj watching bj watch esatto binge watching che vuol dire guardare tutto cioè io ringrazio netflix qui ed ora perché è una cosa fantastica comunque il binge watching e il fatto che comunque tu che se piove o se c'è il sole anche non c'hai proprio voglia di uscire e io che non amo molto la società posso capire esiste netflix tu ti smutandi ti prendi i biscotti se non sono finiti che nel mio caso accade anche spesso e voilà metti il calzino il calzino tecnologico e la vita ti si risolve così in un attimo in un attimo bellissimo esatto cosa possiamo aggiungere che il binge watching ha già peggiorato persone orribili cioè sociopatici persone come Elisabetta che non vogliono uscire mai quindi diciamo che il binge watching secondo me uscirà un'analisi uno studio antropologico un giorno e spiegherà come questi strumenti tecnologici hanno salvato le nostre vite hanno cancellato il convivio la bellezza di stare con gli altri esseri umani stupendo bellissimo direi che se non hai altro da dire hai altro da dire un'ultima cosa che anche netflix fa degli compie degli errori chiaramente ragazzi succede a tutti succede anche a netflix e nel 2014 c'è stata una cosa che ha fatto piuttosto ridere perché ad un certo punto anarchia totale del testo non si sa bene come mai si sono mischiate le descrizioni delle serie tv e dei film quindi ne sono risultate delle frasi anche molto divertenti tipo appunto quella sul film di steve jobs quello della apple dove lui fa tutto il figo e guadagna un sacco di soldi ragazzi quella è una storia vera già ahimè sì ebbene ebbene la descrizione risultava scritto cambiò il modo di pensare degli americani prima della sua attività extraterrestre e sono cose che fanno piuttosto ridere perché la prossima volta che sbaglierete pensate che anche netflix nel 2014 l'ha fatto ragazzi di fronte a milioni e milioni di persone quindi se voi inciampate di fronte a qualcuno non vi preoccupate bene allora nei commenti aspettiamo salutiamo laura ciao laura ciao gatto gatti gatto e a questo punto niente lasciateci nei commenti il modo con cui voi guardate qual è la vostra serie tv preferita iscrivetevi al canale dateci un saluto iscrivetevi al podcast che sia su spotify che su itunes che su spreaker e i video li trovate anche su youtube e che più ne ha più ne metta scaricate il video condividetelo con i vostri familiari a natale mandandoli nella calza io con mia nonna senz'altro che non ho salutato tutta la mia famiglia quindi ragazzi vi saluto tutti qua saluto a nonna nanda nonna nanda nonna enni con le tue doti speak nonna leo chiaramente tutta la grande famiglia in rietti bene un saluto alla famiglia in rietti e alla prossima puntata di brand pitt che devo dire volevo che dicessi tu brand pitt bene adesso io con le mie grandi dote autonome farò end broadcast cioè termina la trasmissione ci dispiace potrete vivere anche senza quindi